Scusa, ci è rimasto un po' sorpreso, io sono a distanza. Questa rete conferma le tue eccezionali qualità che te la porta con la tua chiave. E quando vi lasci quello spazio, piccolo spazio, lui non esita. Mi si è fatto pregare una conclusione di rara potenza e precisione. Con questo glò ha dimostrato di saper colpire anche da lontano un missile che è il portiere. Non l'ha visto nemmeno partire.